In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 1.401 casi positivi al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri dunque si registra un aumento di 56 nuovi casi. 335 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 39 in provincia dell'Aquila, 75 in provincia di Chieti, 133 in provincia di Pescara e 88 in provincia di Teramo, 73 in terapia intensiva, 15 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Chieti, 31 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo, mentre gli altri 783 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 115 pazienti deceduti. I nuovi decessi, alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata oggi, riguardano un 88enne di San Salvo, un 86enne di Rocca San Giovanni, un 81enne di Castirenti, un 79enne di Castiglione Messerraimondo, un 76enne di Sant'Egidia la Vibrata, un 89enne di Elice, un 75enne di Ortona, un 74enne di Penne, un 85enne di Loreto Aprutino, un 86enne, un 65enne di Pescara, un 86enne di Manoppello e una 95enne di Silvi. Spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di Sanità attribuire le morti al coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero essere già state affette da patologie pregresse. 85 sono i pazienti clinicamente guariti, che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici. 10 i guariti, che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 8758 test, di cui 5.316 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. Del totale dei casi positivi, 123 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 280 alla ASL Lanciano-Vastochietti, 622 alla ASL di Pescara e 376 alla ASL di Teramo. Dei 56 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, 7 fanno riferimento alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 8 alla ASL Lanciano-Vastochietti, 28 alla ASL di Pescara e 13 alla ASL di Teramo. Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una ASL provinciale diversa. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di ASL differenti. Grazie. 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 Grazie.